Arcelor Mittal, la nuova proprietà dell'Ilva, pensa evidentemente che i tarantini siano deficienti, che siano cretini, che portino le fette di prosciutto sugli occhi e non si rendano conto della logica di morte che a Taranto comporta e porta la siderurgia. Cosa hanno fatto questi furbetti di Arcelor Mittal? L'hanno voluto fare, elargire dei doni alla città e si è detto dove c'è la pista di pattinaggio, i bambini fino all'età di sei anni non pagheranno, pagherà Arcelor Mittal. I costi verranno coperti appunto dalla nuova proprietà dell'Ilva, così come hanno elargito, hanno donato al comune di Taranto una quota per le luminarie. Ma intanto mi sembra una gran cavolata perché i bambini sotto i sei anni, trovarli pattinare qui è molto difficile. Non ci troviamo nei paesi scandinavi, pattinano ragazzi, bambini, al di sopra dei sei anni. Ma al di là di tutto è schifoso il gesto di voler tra virgolette comprare, la buona fede del Tarantino offrendo doni, come se si offrisse, si regalasse così il caffè al parcheggiatore. Perché non si può scherzare con la salute dei bambini. Sappiamo benissimo cosa ha prodotto l'Ilva, cosa produce l'Ilva e cosa sta producendo Arcelor Mittal. Perché Arcelor Mittal non deve dimenticare che dal proprio insediamento, da quando si è insediata, ci sono stati ugualmente episodi pesanti di sforamenti dal punto di vista dell'inquinamento, così come per 30 e 31 non si sono verificati incidenti che potevano avere conseguenze pesanti. Cosa dire? I Tarantini devono aprire gli occhi e devono pensare che dietro questo regalo, se si regala al bambino così la possibilità di pattinare sul ghiaccio, quella stessa fabbrica, quello stesso siderurgico portatore di morte potrebbe regalare, potrebbe donare, come dire, delle bare ai bambini e ai Tarantini stessi. Se Arcelor Mittal, come ha fatto, ha donato all'amministrazione comunale, ha dato una quota per le luminarie in città, magari, visto che è così prodigo, potrebbe regalare anche, potrebbe anche donare un contratto con la votiva per quanto riguarda la illuminazione dei loculi, le cosiddette lampade votive. Tanto se Arcelor Mittal ha deciso di condannarci a morte, a questo punto ci pagasse anche le lampade votive al cimitero. Voglio dire, al di là di queste battute, che sono battute pesanti, che però io che sono un ambientalista convinto e ho sempre maledetto e maledico l'Ilva ieri e Arcelor Mittal oggi, io dico che non si può veramente giocare con la buona fede dei Tarantini. Se proprio volevi, caro Arcelor Mittal, ma io non avrei mai accettato un regalo del genere, tu investivi per fare una struttura oncologica, ma non per dare il contentino, non per dare così, quasi regalare il caffè. E in cambio di questo caffè, noi Tarantini cosa dovremmo fare? Dovremmo starci zitti, dovremmo esultare perché i bambini, i nostri figli, possono fare così il giro sulla pista di ghiaccio, possiamo vedere un po' di luce per poi vedere le tenebre della morte per sempre. Ma vi rendete conto che la grande siderurgia uccide? Vi rendete conto che ci troviamo davanti ad una classe politica che è silente, che non ha il coraggio di reagire. Io avrei rifiutato i regali di Mittal perché sono regali subdoli, non è possibile barattare la propria dignità in cambio di una profferta, di un regalo, un regalo che è effimero perché la passeggiata, la corsa del bambino sul ghiaccio passa, l'illuminare, l'illuminazione passa, ma quello che restano purtroppo sono i tumori a Taranto e avete visto la percentuale altissima di ammalati e di morti per cancro. E allora io dico no, no e no agli inganni di Mittal. E mi auguro che ogni amministrazione e ogni ente rifiuti queste squallide profferte di Arcelor Mittal. No all'Ilva, no ad Arcelor Mittal, sia alla vita sia a Taranto, no agli inganni.